definire l'open science non è affatto semplice qualcuno potrebbe dire che l'open science di fatto il modo giusto corretto di fare la scienza qualcun altro potrebbe dire che il contrario di open science poi scienza cattiva non è scienza chiusa l'open science è un termine un concetto ombrello che ha assunto negli ultimi anni un ruolo di rilievo nel dibattito scientifico seppure esprima valori che dovrebbero essere alla base del modo naturale in cui si porta avanti e si implementa l'attività scientifica la ricerca e la scienza tutta generalmente si fa con esso riferimento all'ampio concetto di scienza aperta ma come vi dicevo darmi una definizione univo che è chiara non è semplice in quanto il termine raccoglie sotto di esso una varietà particolare e diversificata di iniziative e metodologie che confluiscono poi all'interno di questo grande concetto mi consegue che ogni scuola di pensiero tenta di declinarlo e definirlo in maniera differente in letteratura ritroviamo di fatto cinque scuole di pensiero che cercano di definire il concetto di open science cogliendo prospettive differenti la scuola democratica per esempio identifica l'open science come una leva per una più equa distribuzione della conoscenza scientifica attraverso l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati la scuola pragmatica pensa invece che la creazione della conoscenza se più efficiente si avviene attraverso la collaborazione rendendo il processo il più trasparente possibile proprio attraverso di essa la scuola infrastrutturale indica l'open science come lo strumento per garantire a chi fa ricerca e scienze in generale piattaformi e strumenti per la disseminazione e la collaborazione la scuola pubblica decline il concetto dell'open science rispetto alla partecipazione della società nel processo scientifico attraverso pratiche come quella dell'open science infine la scuola della misurazione identifica l'open science come il tramite per una più corretta valutazione della carriera scientifica le cinque scuole di pensiero prima enunciate non danno una definizione comunque completa del concetto di open science ma di sicuro riescono a toccare in maniera complementare molti degli aspetti espressi da questo termine per riassumere è possibile affermare che l'open science persegue i seguenti obiettivi l'accesso pubblico e la piena trasparenza alla comunicazione scientifica l'accesso pubblico e la disponibilità e la risurabilità dei dati scientifici la trasparenza nelle metodologie degli esperimenti nell'asservazione e nei dati raccolti e la completa collaborazione scientifica fare open science significa in pratica rendere aperto ogni passo della propria ricerca i principi dell'open science sono quindi quello della trasparenza della riproducibilità della collaborazione dell'inclusività dell'accessibilità del rigore del riuso la commissione europea negli ultimi anni ha compiuto una scelta decisa a favore dell'open science carlos moeda c'è già commissario europeo per la ricerca la scienza e l'innovazione nella commissione juncker nello speech all'era conference del giugno del 2015 affermava come la scienza aperta descriva poi di fatto la trasformazione in atto nel modo in cui la scienza viene prodotta i ricercatori collaborano la conoscenza viene condivisa e la scienza è organizzata rappresenta quindi un cambiamento nel modus operandi della scienza e della ricerca riguarda l'intero ciclo della ricerca e contemporaneamente anche tutti gli attori coinvolti in essa accresce la potenzialità della scienza creando quindi più trasparenza più apertura più connessioni di reti ma anche più collaborazione esposta l'attenzione dalla cultura del pubblico muori che comunque molto evidente nel mondo della ricerca alla prospettiva della condivisione della conoscenza sempre moeda c'è l'introduzione al documento open innovation open science open to the world vision for europe scrive come l'open science sta cambiando ogni aspetto del metodo scientifico per rendere lo stesso più aperto inclusivo enti disciplinare assicurare nello stesso tempo l'europa come testa di fronte nell'implementazione e la promozione dell'open science significa promuovere l'accesso aperto ai dati scientifici alle pubblicazioni ma nello stesso tempo garantire anche più alti standard nell'integrità della ricerca per dare forma e sostanza al concetto di open science dobbiamo immaginarlo come un concetto ombrello sotto al quale trova spazio trovano spazio per di fatto metodologie approcci che però possono essere raccolti attraverso fondamentalmente otto priorità quello degli incentivi la priorità è estremamente importante perché spesso l'implementazione dell'open science avviene anche attraverso forme di incentivi quella della degli indicatori della ricerca e delle metriche di prossima generazione che andranno a valutare le carriere accademiche le carriere nel mondo della ricerca in maniera differente rispetto a quello che viene attualmente il futuro delle pubblicazioni scientifiche altro elemento estremamente importante qui si parla di open access si parla di green e di gold open access si si parla di metodologie di approccio per garantire che la conoscenza scientifica non sia chiusa da un paywall altra priorità è quella della europea open science cloud per garantire l'accesso a tutti i ricercatori accesso ad un'ampia mole di di dati dati che dovranno però essere raccolti conservati in una maniera particolare seguendo quindi i principi per quello della fondability dell'accessibility delle interoperability della reusability del 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 dato l'integrità della ricerca sesta priorità estremamente importante ma l'open science avviene anche attraverso la formazione di nuove skill di nuove competenze e anche quindi c'è bisogno di un investimento in termini di formazione molto importante ultimo pilastro non per importanza quello della citizen science questa nuova metodologia che permette poi di fatto la partecipazione del cittadino nel processo di sviluppo di conoscenza scientifica a tutti i livelli dell'implementazione del processo scientifico e dell'attuazione dell'attività poi di ricerca gli effetti dell'applicazione dei principi dell'open science sono quindi importante e lo scenario attuale pone il mondo accademico in anzi a tre importanti sfide che l'open science può sicuramente aiutare ad affrontare e superare la prima sfida e la crisi della riproducibilità dei risultati scientifici raggiunti per alcuni settori della ricerca per esempio un risultato su due non è replicabile mentre nel migliore dei casi i risultati raggiunti sono sovrastimati in uno studio condotto dal centro dell'open science in cento prove di replicazioni di studi nel campo delle scienze psicologiche per esempio solo il 36 per cento di questi hanno dato risultati in linea con quanto espresso nella pubblicazione scientifica da non sottovalutare nemmeno l'effetto del file drawer fenomeno che spinge a pubblicare quello che funziona quello che non funziona finisce nel cassetto della scrivania con l'aumento dei casi di falsi positivi un secondo modo sono i costi di accesso ed è un modo molto importante perché le università i centri di ricerca sono chiamati in primis a pagare un conto salatissimo per garantire ai propri ricercatori l'accesso alle maggiori riviste scientifiche ma quella del paywall non è soltanto una barriera al trasferimento della conoscenza scientifica tra pari cioè all'interno del mondo accademico ma costituisce un limite al processo di trasferimento dell'innovazione della comunicazione scientifica tutta anche al di fuori del mondo accademico cioè di fatti della conoscenza prodotta dall'attività scientifica che spesso è finanziata con fondi pubblici non ne beneficiano anche altre figure e altre realtà come per esempio centri di ricerca private aziende piccole e medie imprese pubbliche amministrazioni o enegi associazioni e cittadini che dovrebbero pagare un costo per accedere a una conoscenza che poi di fatto loro stessi hanno contribuito a creare attraverso per esempio i fondi pubblici una terza sfida e le metriche e le metriche che vengono utilizzate per valutare l'attività scientifica attualmente utilizziamo l'impact factor ma di fatto poi quest'ultimo è una è una media si riferisce alla rivista di fatto non misura la bontà del dell'articolo e coglie solo l'impatto dentro il mondo accademico i limiti sono evidenti eppure ancora largamente diffuso sebbene ci siano state descritti in letteratura diversi casi di anomalie tra le quali la collerazione correlazione per esempio all'impact factor e l'indice di ritrattabilità degli articoli in questo scenario che risulta evidente il valore dell'open science nelle sue molteplici declinazioni adottare una filosofia open permette infatti di superare agevolmente le barriere descritte vorrei concludere quindi con la descrizione di quelli che possono essere poi i benefici che tutti gli attori del sistema ricerca innovazione potrebbero registrare dall'applicazione in toto di quelli che sono i principi dell'open science per gli autori di pubblicazioni scientifiche per esempio per alcuni settori si sono registrati incrementi del citazione del 300% e gli autori potrebbero beneficiare di nuove metriche di valutazione dell'impatto alternativa all'impact factor che registrano anche gli effetti al di fuori della comunità accademica ma anche la possibilità di una per review più trasparente ed efficace per i ricercatori si ha maggiore facilità di accesso ai dati e risultati della ricerca rispetto agli articoli accessibili solo a pagamento si ha la possibilità di sfruttare a pieno nuove tecnologie quali il text mining e il data mining per le biblioteche per esempio c'è la possibile risposta alla crisi dell'aumento vertiginoso dei prezzi degli abbonamenti che parallelamente alla diminuzione del budget riducono sempre di più il numero dei titoli che è possibile offrire ai propri utenti e per le università c'è una maggiore visibilità dei propri ricercatori si possono avere possibili economie di scala sui costi degli abbonamenti una razionalizzazione dell'anagrafe della ricerca se collegata all'archivio per esempio istituzionale per gli enti di finanziamento si ha un maggior ritorno sugli investimenti garantite dalla massima disseminazione dei risultati della ricerca i vantaggi sono anche per tutta la comunità i risultati della ricerca si vedono di più si vedono anche prima per esempio grazie all'autoarchiviazione non si devono aspettare tempi di stampa ma anche grazie alla maggiore disseminazione si tiene un maggiore impatto una maggiore circolazione di idee cioè che guadagna complessivamente la crescita e la diffusa e la diffusa della conoscenza che subisce una forte accelerazione la libera circolazione di risultati della ricerca e dei data set contribuisce anche a ridurre il cultural divide ci sono dei vantaggi notevoli anche per le imprese i risultati della ricerca accademica sono agevolmente gratuitamente accessibili e riutilizzabile l'open access favorisce quindi l'innovazione ci sono dei vantaggi per i cittadini i risultati della ricerca sono più facilmente accessibili e riutilizzabili per i cittadini che vogliono per esempio contribuire in prima persona l'avanzamento della scienza il caso quindi è quello relativo alla citizen science come saranno quindi le future politiche europee relative all'open science siamo partiti nel 2008 in cui c'era questa azione pilota sul sul sull'open access con horizon 2020 l'open access è diventato obbligatorio e mentre l'open research data e data management plan era un'azione pilota relativa soltanto ad alcuni temi di horizon 2020 già però dal 2017 anche l'open research data e data management plan è diventato qualcosa di default quindi obbligatoria nel 2021 quindi con l'avvento di horizon europe l'open access resterà un must si avrà anche l'implementazione del plan s quindi sarà ancora più stringente compreso anche il data management plan che sarà in linea con i dati fair e sarà obbligatorio e come l'open data che sarà i dati saranno aperti di default tranne alcune eccezioni ma anche l'open science sarà embeddata cioè sarà integrata in tutti i processi di attività di ricerca finanziate da horizon europe attraverso la citizen science o attraverso altre metodologie da adottare